Lo sapete, ho deciso di candidarmi sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Innanzitutto la battaglia ambientale, quella che porto avanti da 20 anni, ma anche per combattere le varie brutture, le storture, le porcherie amministrative. Vedete, da giornalista ho denunciato e continuo a denunciare tante situazioni, ma è arrivato il momento di entrare nella sala dei bottoni per rivoltare Taranto come un calzino. Eccone un'altra delle tante. Ci troviamo, qui siamo in Corso Italia, come sapete dal primo dicembre. Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, le strisce blu, non ci sarà più l'interruzione che c'era tra le 13.30 e le 16.30, ma ci sarà orario continuato. Si pagherà sempre dalle 8.30 del mattino fino alle 20.30 della sera. Una situazione davvero incredibile, gravissima, perché va a incidere sulle tasche del cittadino contribuente. Ma non solo l'allargamento della fascia oraria. Sono state disseminate strisce blu in altre quattro aree della città dove c'erano prima le strisce bianche. Siamo passando, lo vedete dal cartello, dalle strisce bianche alle strisce blu. Questo significa che in queste zone, per esempio, qui dicevo siamo in Corso Italia, si pagherà, cosa che prima non si faceva, un danno economico, innanzitutto per le attività commerciali, per quelle persone che lavorano qui. Penso ai tanti dipendenti che ora, poveri Cristi, saranno costretti a pagare. Ma anche per il semplice cittadino che va a fare la spesa, che va ad acquistare qualcosa e dovrà fare il ticket. L'amministrazione Melucci, ora non scarichiamo tra amministrazione Melucci, tra Chima, Mobilità, Amat. Insomma è sempre la stessa cosa, perché poi Chima, Mobilità, l'Amat è una società partecipata che deriva, è un braccio operativo dell'amministrazione comunale. Allora l'amministrazione comunale ha le sue grosse responsabilità in quell'ex amministrazione comunale, quell'amministrazione di Melucci che grazie a Dio è caduto e non è più sindaco di Taranto e non tornerà più a fare il sindaco di Taranto, perché i cittadini dovranno ricordare questo. Il cittadino, quando andrà a votare, se mai dovesse avere l'infelice idea di votare Melucci, si renderà conto di quello che ha fatto Melucci. Lui dice di aver seminato, dice stiamo seminando la rinascita, come recitano i cartelli, i affissi. Ha seminato, sta seminando, signori cari, le strisce blu in una città che puzza di fabe, in una città che ancora si lecca le ferite, si sta leccando le ferite dall'emergenza Covid. Tu che cosa vai a fare? Vai ad aumentare, ad allungare, a prolungare la fascia oraria per il pagamento del parcheggio e non solo, altre quattro aree enormi della città diventano a pagamento, quando prima non lo erano. È un fallimento amministrativo dell'ex, grazie a Dio ex, lo sottolineo a titoli cubitali dell'amministrazione. Quello che Melucci vuole far vedere alla città, il sindaco amato dei Tarantini, ma chi ti ama caro Melucci? Chi ti ama? Il cittadino che verrà dissanguato per pagare i parcheggi a pagamento? Quale motivo c'era di far diventare a pagamento queste aree che consentivano agli operatori commerciali, ai cittadini, di poter, non dico vivere, ma almeno sopravvivere, di risparmiare? Perché poi vedete, quando tu risparmi 3, 4, 5, 6 euro al giorno, in un mese sono bei soldi, arriviamo a 200, 200, 300 euro, che incidono in una città che sta puzzando di fame. Lo capite o no, signori cari? E anche i 17 che hanno firmato, penso che lo sapessero, hanno firmato lo scioglimento, penso che lo sapessero anche questa situazione. Mi riferisco soprattutto a quelli di maggioranza, che poi sono diventati minoranza, ma non si capisce più nulla, maggioranza e minoranza ormai è la stessa cosa in questo comune, in questa amministrazione comunale, in questa ex amministrazione comunale, sottoliniamolo, ex. E allora capite il motivo per cui mi candido, perché non posso continuare a vedere certe assurdità, certe illogicità, certi atti che rappresentano davvero uno schiaffo alla collettività, alla cittadinanza. Vi posso assicurare che con la mia amministrazione ci sarà una forte, una sensibile, una sostanziosa riduzione dei parcheggi a pagamento, una sostanziosa riduzione, perché bisogna capire le esigenze del cittadino. Io sono un cittadino che paga il biglietto, che paga il ticket e sa cosa significa, incide sulle tasche di ciascuno di noi. Ci sarà una grossa, sostanziosa riduzione dei parcheggi a pagamento, come ci sarà una rivisitazione totale dei vertici dell'AMAT e delle altre società partecipate. È un impegno che prendo con la città, potete segnarvelo, potete salvare questo video e se da sindaco non dovessi farlo sarete autorizzati a sputarvi in faccia. Salvate questo video. Non ho altro da dire. Un'amministrazione, quella di Melucci, che ha dimostrato, veramente ha toccato il fondo dal punto di vista proprio della mancanza di rispetto verso il cittadino che è davvero soffocato, strozzato dai costi. Non si può schiaffeggiare il cittadino in questo modo. È stato l'ultimo colpo di coda che ora noi paghiamo. Meditate, cittadini. Pensate, Luigi Abbate è candidato sindaco con Taranto senza Ilva. queste cose non le farà mai. Salvate questo video e poi mi darete una risposta. Grazie a tutti.